Ciao, sono Gianluca Bocci e oggi voglio proporvi un ragionamento che è interessante, presuppongo per tutti, anche quelli che non sono interessati alla fotografia, perché comunque sì, di fotografia si parla. Inizio subito con un esempio generico. A quanti voi è successo di andare dagli amici, parenti, conoscenti e dire, ah, non sai cosa mi è successo? Raccontiamo l'avvenuto e ci rispondono, ah, impossibile, non ci credo, e poi diciamo, ah, te lo dimostro, ti mostro la foto. E che succede? Quando mostriamo la foto, nella maggior parte dei casi ci credono, perché chi vede una foto presuppone che sia vero, perché la foto è la verità, la foto rappresenta quello che è davvero successo, non magari come le parole che possono essere manipolate, e invece no, non è vero. In realtà la fotografia raramente è una verità assoluta, perché comunque oltre a poter essere manipolata con fotoritocchi, con fotomontaggi, vi dicendo, ci fa vedere soltanto una parte della realtà. Quando faccio i miei corsi di fotografia parlo sempre delle prime due cose importanti. La prima cosa ovviamente è scegliere il soggetto e seconda cosa, l'inquadratura, questo rettangolo, cosa mettiamo dentro, ma ancora più importante, cosa lasciamo fuori. E quindi quando noi vediamo la fotografia, se anche fosse vera, è solo una minima parte di quella verità, perché una grossa parte di quella verità, appunto, è al di fuori del fotogramma. Perché questa intro? Perché è successa questa cosa. Mi è stato segnalato da Ab Rashid, un fotografo del Bangladesh su Facebook, questa strana cosa, che poi ho trovato conferma anche sul sito Pixofasia. Che è successo? Un fotografo della Malessia, tal Edwin Hongwe, che per la pronuncia e per tutto mi potrei perdere, ma vi lascio tutti i link di cui sto parlando qui sotto in descrizione, ha vinto l'IPA, che sarebbe il concorso Hamdan International Photography Award, che in realtà è il premio internazionale con il più alto monte premi, si parla dei soldini. Il monte premi complessivo è sui 450 mila dollari e il nostro Edwin Hongwe Ki ha vinto 120 mila dollari. L'ha vinto per questa foto effettivamente bella, questa donna vietnamita con un forte strabismo, con due bimbi, uno che tiene in braccio e un altro di cui si vede soltanto la manina che compare da una specie di cesto che porta sulle spalle. La classica foto di reportage di una situazione disagiata, se vogliamo anche con un soggetto particolare, per intenderci, se non fosse stata così fortemente strabica, sarebbe stata meno particolare come immagine. Così invece un soggetto particolare, toni molto soffusi, un bello sfocato, non una foto eccezionale, ma una foto che funziona bene e bam ha vinto. Ma qual è il problema? L'avete visto dalla copertina? Si scopre che questa foto è stata realizzata da un gruppo di fotografi. Davanti a questa donna c'è letteralmente un plotone di fotocamere che stanno scattando non si sa quante foto. Quindi l'apparenza è questa, non è la classica foto da giornalista che viaggia, passano una settimana su un villaggio, conosce le persone, conosce Mari questa donna e decide di fare dei ritratti. Quindi una foto, diciamo, eticamente corretta. No, in realtà è la classica foto da turista morto e fuggi. Gli organizzatori di un viaggio turistico hanno Mari preso questa donna che non sarà un'attrice, Mari davvero è un abitante di questo villaggio nel Vietnam, e hanno detto, guarda ti paghiamo un tot se tu stai qui ferma, mentre questo gruppo di fotografi ti fanno delle foto. Quindi c'è stata anche una mercificazione, insomma, di questa povera donna strabica con due figli a carico. Ok, la situazione fa un po' tristezza, sottolineo tristezza, perché in realtà a questa IPA non si può comunque additare la cosa come grave, perché effettivamente è un concorso non di fotogiornalismo. Quindi in realtà hanno scelto una bella immagine e non è colpa ovviamente dell'ente premiante, ma del premiato, che sembra che abbia scritto come descrizione, ah ho incrociato questa donna e ho deciso di ritrarre la sua immagine che rappresenta la speranza, Hope, che sarebbe poi il tema di questo concorso. In realtà lui può forza anche aver incontrato questa donna, ma poi ha sgomitato a tutti i suoi compagni di viaggio e hanno creato questa situazione veramente molto, molto triste. E quindi è una vera fotografia, sì la foto è vera, ma quello che racconta non è una donna che appunto con il suo stramismo, con i due figli a carico, che si sta praticamente pensando quale sarà la speranza del suo futuro, ma che si sta prestando con pazienza, ha rititolato questa foto, a un gruppo di fotografie che tristemente stanno creando tutte immagini, una avanti a un'altra. Restando sul tema appunto della falsità della fotografia, vi porto un altro esempio sempre presso da Facebook. Era uscita fuori quest'altra immagine del principe William che sembra fare il gesto del dito teso. Accidenti, scandalo, cosa fa il principino? Ma in realtà basta andare a vedere meglio, in realtà stava facendo il gesto del tre. Non so per quale ragioni inglesi il tre invece di farlo come noi italiani lo fanno così. E quindi girando in un certo modo, non so se ci riesco la telecamera, sì, anche Gianluca Bocci sta facendo il dito teso. E quindi vedete, ma è vera fotografia? Sì è vera, ma può essere interpretata per un banalissimo gioco di prospettive come un gestaccio, ma con una prospettiva differente, non è un gestaccio, sono entrambi foto vere, ma raccontano due verità differenti. Ok. Prendo un altro esempio ancora, un pochettino piuttosto, perché c'è di mezzo un leggeziamento. Il giornalista Wolski praticamente ha fatto questa immagine durante la guerra in Iraq, in cui sembra appunto che un soldato inglese fa un gesto per fermare un padre con un braccio, un bimbo con fare supplichevole. In realtà quella foto lì non esiste. Esistono due foto in cui evidente c'è il soldato, vedete che il recheno, che fa un gesto così verso degli recheni seduti per terra, come dire restate qui che forse è meglio, potrebbe essere pericoloso. E c'è un gesto invece di questo padre che cammina con una figlia in braccio, ma in quel momento il soldato inglese è totalmente indifferente. Quindi vedete che da due verità distinte si è creata una terza verità completamente differente, che ha spinto la rivista, il Los Angeles Times, appunto a licenziare il signor Wolski. Quindi, morale della favola, andiamo a concludere, guardate sempre con un occhio critico le immagini, perché la verità che vedete è soprattutto una delle tante possibili verità e potrebbe essere la vostra verità, perché ogni persona reagisce in maniera differente. Quindi abbiate sempre il beneficio del dubbio su quella foto se vi sta raccontando davvero quello che pensate di vedere. E per concludere davvero vado a fare una piccola tirata d'orecchie al mitico Gianni Berengo Gardin. Perché, guardate che come segnalibere utilizzo Ditan 3, lui timbra le sue foto con questo simboletto qui in cui scrive vera fotografia non corretta, modificata o inventata al computer. E con tutto l'affetto e la stima sacrosanta nei confronti del nostro Gianni Nazionale, per me lui si sbaglia, perché la fotografia non è vera. La verità che propone è soltanto una delle tante possibili e anzi per me, che l'avete capito, sono innamorato della fotografia. Grossa parte del fascino della fotografia è proprio questo essere ingannevole e mutevole ed essere multiforma in base appunto a chi racconta e chi riceve questo racconto. Bene, questa è la mia opinione. Come sempre i commenti sono a vostra disposizione per dirmi se secondo voi la fotografia è davvero una cosa vera e insomma, come ho titolato, ma insomma, quanto c'è di vero nella fotografia per me quasi nulla e per questo l'amo. Ciao a tutti ragazzi e al prossimo video!